Per la sua lunga e poliedrica attività di giornalista e conduttore televisivo, oltre che di blogger e tanto altro ancora, per i suoi molteplici interessi professionali e culturali, il premio va ad Emanuele Carioti di T9. Buongiorno a tutti, grazie, amo molto la musica brasiliana, la cultura brasiliana ed è per questo che ricevo un grande piacere questo premio. Un ringraziamento naturalmente all'associazione Brasil Memoria, Se Globo Multimedia, a Russana Tosto, impeccabile ufficio stampa e poi un ringraziamento particolare a Claudio Indrigo perché grazie a lei ho conosciuto molto la musica brasiliana per tutta l'attività che ha fatto per la promozione Ricordo del Papà, che ricordiamo sempre Sergio Indrigo ha costituito il ponte tra la musica italiana e la musica brasiliana. Io farei ancora un applauso a Sergio Indrigo e a Claudio Indrigo. Un ultimo premio per la televisione, vuoi te? Posso permettere? Devi? Posso permettere, siccome è un amico, poi dopo soffrendo se non glielo do io. Allora, per la sua lunga attività di giornalismo...